Ci tengo a dirti giusto due o tre cosine, se no Alfonso mi bacchetta, devo essere molto breve e conciso. Allora, la prima cosina è... Stai facendo un percorso magnifico, ma non ho capito se mi vedi o non mi vedi. Ti vedo, ti vedo. Ah ok, perfetto. Stai facendo un percorso magnifico, magnifico perché è reale, con i tuoi pregi, con i tuoi difetti, con i tuoi successi, le tue risate, ma assolutamente, ma ci stanno, con i tuoi scivoloni ci sta tutto ed è magnifico proprio perché è vero, è reale e quindi devi sapere che sono molto molto orgoglioso e fiero di te, fidati delle mie parole. Spesso, purtroppo, passi per la ragazza ingenua, la ragazza sensibile, la ragazza fragile e quindi ti senti sbagliata. Spesso, non dico sempre, ogni tanto ti senti sbagliata, lo conosco, conosco molto bene questo lato e se ti può consolare il tuo essere sbagliata ti rende unica e preziosa ai miei occhi.